ambiente e popoli sono il creato da proteggere e curare oggi la chiesa celebra la giornata in preghiera per sanare le ferite della terra giustizia riparativa invoca il papa in un messaggio per liberare dal debito le nazioni più povere primo test in vista della ripartenza le scuole riaprono per i corsi di recupero studenti sui banchi per salvare l'anno dalle insufficienze al via anche la formazione del personale covid sciolto il nodo trasporti l'andamento dell'epidemia in italia 978 nuovi contagiati 81 mila tamponi 8 morti nelle ultime 24 ore ma il dato che preoccupa è l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva ora più di 100 torna a muoversi il lavoro in italia a luglio aumentano gli occupati soprattutto donne ma anche i disoccupati e l'effetto del ritorno alla ricerca di un posto di lavoro dice l'istat bene anche la manifattura italiana che registra un rimbalzo positivo domani a venezia l'edizione numero 77 della mostra del cinema ci sarà anche lisa fucsas col suo film battezzata dall'ulta e sopravvissuta una brutta malattia la sua storia di conversione al tg 2000 buonasera ben ritrovati con il tg 2000 in apertura dunque la giornata mondiale per la cura del creato difendere l'ambiente usarne in modo equo e responsabile le risorse mettere fine alla strenata avidità dei consumi e cancellare infine il debito dei paesi poveri è l'accorato appello del papa nel messaggio scritto per questa giornata i servizi di paolo fucili e caterina dall'olio la creazione geme siamo nel mezzo di un'emergenza scrive francesco con toni allarmati parla di un pianeta estenuato dal ciclo incessante di produzione e consumi foreste dissolte deserti che avanzano mari inaciditi disastri climatici in vertiginoso aumento denuncia il messaggio diffuso oggi a sua firma per celebrare la giornata di preghiera ecumenica per il creato i nostri stili di vita si legge spingono il pianeta oltre ai suoi stessi limiti ma la pandemia ha dimostrato anche che la terra recupera se le permettiamo di riposare aria più pulita acqua più trasparente animali tornati li doverano scomparsi ora bisogna sfruttare il momento esorta bergoglio trovando stili di vita equi e sostenibili nell'usare l'energia nei consumi nei trasporti poi invoca una giustizia riparativa per il sud del mondo sfruttato e rinnova l'appello a cancellare il debito dei paesi più fragili alla luce dei gravi impatti su di essi della pandemia si scaglia contro il nuovo colonialismo dice delle multinazionali che sfruttano vergognosamente comunità indigene e paesi poveri e tra i campanelli d'allarme come li chiama ad inquietarlo e soprattutto il riscaldamento del clima il tempo sta per esaurirsi bisogna far tutto il possibile per contenerlo sotto la soglia di un grado e mezzo come sancito dall'accordo di parigi sul clima perché sarà catastrofico avverte andare oltre stanno ancora mettendo pezzi al più grave disastro ambientale degli ultimi anni gli abitanti delle mauritius e dire che è passato più di un mese da quando la petroliera giapponese si è incagliata nella barriera corallina spaccandosi in due e riversando tonnellate di barilli di petrolio in uno dei pochi paradisi incontaminati rimasti sulla terra il petrolio purtroppo da solo non si riassorbe quel poco che è sparito dalla circolazione è finito nei polmoni e nell'apparato digerente della fauna marina delfini in primis morti a centinaia e nemmeno più commestibili per la popolazione locale l'abbiamo causato noi esseri umani questo danno senza dubbio e il primo intervento che ci è venuto in mente è stato affondare tutto per nascondere le prove e fortuna che le immagini dei satelliti non mentono dal petrolio ai fuochi della california che quest'anno hanno bruciato più del solito un mese e mezzo senza interruzione quest'angolo di mondo è ormai talmente arido che presto non rimarrà in piedi nemmeno un alberello e quel poco di acqua che rimane viene portata sulla costa est più produttiva gli scienziati che si occupano di questo settore suggeriscono misure di adattamento ma la mitigazione dipende dal sistema economico e politico e da come questo sviluppa tecnologia interventi come quelli per rallentare lo scioglimento dei ghiacciai quello più noto in italia la marmolada agli anni contati fenomeno ormai irreversibile ma che in qualche modo deve essere rallentato sia per evitare disastri come quello successo quest'anno a venezia sia perché sono l'unica riserva d'acqua rimasta sia perché senza di loro la desertificazione del pianeta sarà ancora più imminente cambiamo argomento studenti in aula da oggi per i corsi di recupero un vero e proprio test sulla ripartenza dell'anno scolastico che ricomincerà il 14 settembre anche se alcune regioni seguiranno un calendario diverso allora vediamo tutte le regole da seguire per studenti ed insegnanti con Pierluigi di vita sciolto il nodo del trasporto pubblico con le linee guida emanate dal ministero che prevedono una capienza non superiore all 80 per cento dei posti sui mezzi distanziamento di un metro e igienizzanti sulle vetture la riapertura delle scuole altri scogli da affrontare uno degli aspetti più controversi riguarda l'uso delle mascherine ad esempio un istituto comprensivo romano ha inviato una comunicazione alle famiglie affinché ne tengano una scorta ma fatto salvo l'uso sui mezzi pubblici a chi spetta fornire le mascherine beh noi sappiamo che le mascherine nelle scuole statali devono essere fornite dalla struttura del commissario arcuri e in molte scuole stanno arrivando già nei giorni scorsi sono arrivati pacchi di gel e pacchi di mascherine se i ragazzi dovranno tenerle indosso all'entrata all'uscita e durante qualsiasi spostamento nell'istituto ma non quando sono seduti al banco discorso diverso per gli insegnanti insegnanti in classe devono portare sempre noi abbiamo chiesto anzi che per gli insegnanti specialmente per le classi dei più piccoli fossero date piuttosto che le mascherine le visiere perché i bambini devono poter vedere l'espressione del viso del dell'adulto dispensati dall'obbligo della mascherina saranno gli alunni con disabilità a questo a quel punto però sarà molto importante l'opera sia dell'insegnante di sostegno sia dell'insegnante curricolare quando non c'è l'insegnante di sostegno che questo bambino questo ragazzo eccetera non stia troppo a contatto con gli altri non in qualche modo non possa essere infettato oppure infettare con barbara masulli ora andiamo a sentire i timori e le speranze degli studenti che sono tornati a scuola oggi per i corsi di recupero dopo sei mesi di assenza dalle aule con le mascherine e tutto però almeno si dia un po' quel calore che c'era prima come gruppo classe invece a distanza comunque è tutto molto più triste se può dire non sono mai stati più felici di tornare in aula romani, milanesi, studenti di tutta Italia di nuovo sui banchi primo giorno oggi almeno per chi doveva recuperare delle materie è sempre meglio la didattica in presenza anche perché riesci a lavorare con maggiore empatia e riesci a diciamo a distrarti di meno rispetto alla didattica a distanza quindi è un sogno diciamo di entrare qui in questo momento la didattica a distanza infatti per molti è diventata un incubo ho visto la differenza tra quando stavo a scuola c'avevo tutte le sufficienze e quando sono a casa ho tutto a collo proprio specialmente chi ha la concentrazione più debole come me tutte insufficienze per fortuna non sono la sola si comincia così ingressi scaglionati ad uno ad uno le mani e poi distanziamento, igiene personale e sanificazione ci saranno i banchi singoli quindi niente più un bagno di banco e poi dovremo pulire il nostro banco, il nostro posto a fine di ogni giornata e igienizzarlo col gel questo è uno dei primi istituti romani ad aver riaperto la scelta organizzativa con un consiglio docenti abbiamo condiviso e pensato che la scuola è importante in presenza ai corsi di recupero partecipano pochi ragazzi un buon banco di prova per la ripresa di metà settembre massimo 7-8 ragazzi per classe è chiaro che su 1280 studenti ne abbiamo 250 oggi quindi questo forse è il momento giusto per avviare un percorso che spero il 14 possa essere poi completato e mentre si aspettano i banchi singoli che in diverse scuole non sono ancora arrivati non mancano le preoccupazioni i contagi si stanno alzando poi corriendo delle scuole molti studenti comunque non faranno mai il distanziamento Calano leggermente i casi di coronavirus in Italia ma crescono i ricoveri in terapia intensiva Letizia Davoli Calano lievementi positivi al covid in Italia 978 i casi di oggi contro i 996 di ieri 81.000 tamponi contro i 58.000 di ieri sale di due unità il numero dei morti 8 contro i 6 di fine agosto un aumento anche i malati in terapia intensiva arrivati oggi a 107,13 in più di ieri Continuano a nascere dunque in tutta Italia nuovi focolai soprattutto attorno a casi da rientro che restano la maggior fonte di contagio del paese quasi tutti asintomatici richiedono però misure di contenimento e quarantena per evitare conseguenze più gravi Oggi il servizio sanitario nazionale voi parlavate della generazione ma immagino che intendesse tutto il servizio sanitario nazionale in Italia è sicuramente più forte perché abbiamo imparato, abbiamo lottato abbiamo messo più risorse A causa di un focolaio che conta 15 positivi e resterà chiuso per tre giorni il comune di Orgosolo nel Nuorese in una regione la Sardegna che si pone al quinto posto per numero di contagi dopo Lombardia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna proseguono ancora in tutti i principali aeroporti e porti commerciali controlli e tappeto su chi rientra da paesi a rischio e dalla regione Sardegna da domani a Fiumicino a Roma si aggiunge al presidio sanitario all'interno dello scalo anche il drive-in più grande d'Italia dotato di 6 checkpoint sanitari per il prelievo di campioni e in grado di ospitare fino a 130 autovetture resterà aperto sette giorni su sette con ampia copertura oraria e sarà accessibile a chiunque hanno superato quota 850.000 i decessi legati al coronavirus nel mondo con quasi 26 milioni di contagi totali gli Stati Uniti ancora al primo posto ma crescono i casi anche in India che ormai viaggia sulla media di 65.000 nuovi casi al giorno critica anche la situazione in Europa ma in tanti paesi del mondo si prova anche a tornare alla normalità Francia, Russia e Cina tornare gli studenti in classe tra timori e precauzioni come ci dice Lucia Ascione Uno ad uno piano piano con la mascherina Monsieur Aristide de Calame preside del plesso Jarenois di Boulogne-Billancourt soborgo di Parigi raccomanda prudenza agli alunni senza nascondere l'entusiasmo per il primo giorno di ritrovata quotidianità in Francia la riapertura degli istituti è stata preceduta da meticolosi interventi di distanziamento riqualificazione dei locali disinfestazione nessuno nega i timori di chiusura imposte da eventuali focolai che potrebbero generarsi ma è innegabile l'impegno profuso dal personale per consentire il nuovo inizio se in alcuni paesi come la Spagna c'è ancora qualche giorno di tempo per preparare al meglio studenti ed insegnanti alle misure imposte dalla prevenzione in Russia è palpabile l'emozione negli occhi dei bambini che tornano tra i banchi sotto lo sguardo attento dei genitori tenuti a debita a distanza di sicurezza veterani si fa per dire gli studenti delle prime classi a Pechino i fantasiosi cappelli inventati dopo il primo lockdown per insegnare ai più piccoli a occupare correttamente gli spazi sono già in archivio nella giornata nazionale della scuola che cade a fine agosto come ci si aspetta dai figli della gloriosa terra dei mandarini tutti gli alunni conoscono alla perfezione protocolli e regole comportamentali per farsi beffe si spera del coronavirus e soprattutto per non dover rinunciare al rassicurante suono della campanella nuova visita del ministro degli esteri Luigi Di Maio in Libia il paese è un attore cruciale per lo sviluppo del Mediterraneo ha detto incontrando il presidente Serrage Massimiliano Cocchi una visita lampo per incontrare prima il premier del governo di accordo nazionale Fayez Al-Serrage poi il presidente del Parlamento di Tobruk Aghila Saleh le poche ore che il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha passato a Tripoli sono servite per sancire il riavvicinamento tra Italia e Libia il patto di potere tra governo di Tripoli e Parlamento di Tobruk ha infatti disegnato un nuovo ordine in Libia che marginalizzando il generale ribelle Khalifa Haftar e quindi la Francia ha fatto tornare in gioco l'Italia e ora il nostro governo ne approfitta per riaprire la strada del business tentando di rilanciare l'accordo firmato oltre dieci anni fa da Berlusconi e Gheddafi ovvero la costruzione di un'autostrada costiera e di due nuovi terminal all'aeroporto di Tripoli in cambio di un maggiore impegno da parte dei libici nella lotta ai trafficanti di uomini la visita lampo di Di Maio cade in un momento delicato e non solo perché un kamikaze questa mattina si è fatto esplodere senza causare vittime nel centro di Tripoli quanto perché il premier Fayez Al-Serraj ha sospeso dalle sue funzioni il potente ministro degli interni Fatih Bishaga l'uomo che ha sconfitto sul campo il generale Haftar grazie all'appoggio militare determinante della Turchia nel governo libico Bishaga era considerato l'uomo più vicino ai turchi e per questo Ankara potrebbe chiedere conto al pur sempre debole Al-Serraj della sua decisione insieme alla situazione libica preoccupa nel Mediterraneo la crescita della tensione tra la Turchia e la Grecia Ankara avverte Atene se la militarizzazione dell'isola di Castellorizzo supererà i limiti previsti dall'accordo di Parigi del 47 sarà la Grecia a perdere ha detto il ministro degli esteri turco intanto le controverse esplorazioni energetiche della Turchia a largo di Cipro che si sarebbero dovute concludere oggi proseguiranno almeno fino al 12 settembre e a Palermo sono arrivati i 353 migranti della Sea-Watch in prefettura in corso adesso un vertice per discutere le modalità del loro trasbordo sulla nave quarantena e poi c'è anche una buona notizia che ci dice Clara Iatosti questo piccolo è nato in volo sull'elicottero del 118 durante il viaggio da Lampedusa a Palermo la mamma è una giovane migrante positiva al Covid-19 saranno curati all'ospedale Cervello punto di riferimento regionale per il virus ma intanto non si sa ancora se il trasferimento di oltre 350 migranti giunti nel pomeriggio nel capoluogo siciliano a bordo della Sea-Watch 4 avverrà a largo di Palermo oppure al porto tra loro ci sono 152 persone prevalentemente subsahariani salvati nel Mediterraneo dalla Louise Michel la nave finanziata dall'artista inglese Banksy ed altri 201 soccorsi dalla ONG tedesca dal 22 al 24 agosto tra i naufraghi ci sono uomini e donne con segni di tortura ed ustioni ed altri con sintomi compatibili con il coronavirus che sono stati messi in isolamento le attende la nave quarantena allegra ferma al porto di Palermo per un'espezione sanitaria di personale medico della sanità marina aerea di frontiera e della croce rossa poi si dovrebbe spostare in rada se sbarcano denuncio il governo ha dichiarato il leghista Salvini negli Stati Uniti tensioni a Los Angeles dove un altro afroamericano è stato ucciso dalla polizia il colpo mortale secondo la versione degli agenti sarebbe partito dopo un inseguimento cominciato perché la vittima avrebbe preso a pugni in faccia uno degli agenti a seguito dell'uccisione nella notte a Los Angeles migliaia di persone sono scese in piazza per protestare il presidente Donald Trump in risposta all'escalation di proteste ha detto di essere pronto a schierare la guardia nazionale il presidente Nicolás Maduro invece ha concesso un indulto a 110 prigionieri politici tra cui degli stretti collaboratori del leader dell'opposizione Juan Guaidó l'intenzione del governo bolivariano ha precisato il ministro della comunicazione è approfondire il processo di riconciliazione nazionale in uno spirito di unione affinché le questioni politiche siano risolte per via pacifica in realtà per molti osservatori si tratterebbe di una scelta strategica in vista delle prossime elezioni in programma il 6 dicembre giriamo pagina e vi parliamo adesso della storia di una giovane regista e scrittrice Elisa Fuxas che ha chiesto di essere battezzata da adulta circa un anno fa poi alle prese con una brutta malattia il lockdown racconta la sua esperienza in un libro e in un film che è arrivata anche alla mostra del cinema di Venezia di tutto questo in anteprima in esclusiva ne parla con il nostro Fabio Falzone Comincerei così una storia sorprendente è giusto o sbagliato questo? Il film è il secondo episodio di una storia che è iniziata con il libro che il libro appunto ama e fai quello che vuoi rubato da Sant'Agostino titolo racconta il mio catechismo da donna adulta italiana contemporanea il film invece bene ti sei battezzata ora dici di credere in Dio vediamo se è vero e quindi Isola racconta una prova di fede per me cioè prima della pandemia mi diagnosticano un tumore e poi vabbè succede quello che conosciamo tutti lockdown solitudine completamente isolata mia migliore amica che si ammala anche lei di linfoma credo ancora in Dio sì quindi credo che insomma la cosa incredibile è che a distanza di un anno esatto io mi sono operata cioè dal mio battesimo quindi poi ci sono anche delle sincronie abbastanza evidenti però più che la sorpresa è lo stupore che secondo me è il sentimento base della religione che poi è quello che mi ha fatto innamorare della religione questo stupore che davanti a una storia che si rinnova ogni volta e che diventa sempre tua e sempre più tua per questo prendo quello che mi sta succedendo come una prova di fede a metà tra una missione e un videogioco dove però c'è la mia vita come posta in palio la politica adesso il governo pone la fiducia sul decreto legge covid scatenando le proteste dell'opposizione ma a far aumentare l'attenzione all'avvicinarsi anche della data delle elezioni regionali e del voto per il referendum Massimiliano Niccoli Siamo di fronte a una certamente fase di rilancio delle nostre economie ma caratterizzata appunto da un clima di incertezza Un clima spiega il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni che può essere affrontato grazie ai soldi del recovery fund ma dice Gentiloni il governo nel compilare il programma di riforme deve indicare le proprie scelte nel quadro delle priorità non come se fosse un catalogo delle spese governo che guarda con preoccupazione alla consultazione del 20 e 21 settembre un occhio alle regionali certo l'altro al referendum dove si vota per confermare o meno la legge costituzionale di riduzione dei parlamentari da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 un fronte quello del no che sta crescendo tanto che oggi il segretario del PD Nicola Zingaretti pizzica chi per opportunismo ne irrobustisce le fila ho un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla scelta del no afferma Zingaretti ma sarebbe ipocrita orientarsi in quella direzione per uno spirito polemico contro il PD e contro l'esecutivo e mentre Forza Italia per voce del suo leader Silvio Berlusconi dà libertà di scelta il comitato per il no ha annunciato di scendere in piazza il 12 settembre e qualche spiraglio di luce oggi arriva dai dati dell'economia l'Istat a luglio registra 85 mila occupati in più Marco Bergamaschi a luglio nel nostro paese torna a crescere l'occupazione dopo 4 mesi di flessioni consecutive l'Istat conta 85 mila occupati in più in particolare tra le donne e i dipendenti stabili gli uomini occupati mentre diminuiscono gli indipendenti il tasso di occupazione sale al 57,8% mentre cala quello di natività ma da febbraio il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila con un'emorragia da inizio anno soprattutto di dipendenti a termine e indipendenti mentre sono cresciuti i lavoratori a tempo indeterminato il tasso di disoccupazione a luglio sale ed è il peggiore da settembre 2019 e tra i giovani torna sopra il 30% alla contrazione rispetto allo stesso mese dell'anno scorso contribuiscono le ripetute flessioni congiunturali registrate da marzo un dato conforta se ad agosto la manifattura europea continua in recupero dopo la crisi legata alla pandemia a guidare la ripartenza all'Italia dopo il lockdown la ripresa di queste attività nel nostro paese continua per il quarto mese consecutivo e avanza a ritmo più veloce da oltre due anni con l'indicatore che considera produzione nuovi ordini salito a 53,1 punti sopra la soglia dei 50 che separa espansione e contrazione a Roma adesso dove sono state riattivate le telecamere che limitano gli accessi al centro storico della città erano state spente a marzo per venire incontro alle difficoltà dei romani ma la riaccensione non trova consensi come ci dice Silvio Vitelli adesso che è finita prima guadagnavano i 100 euro adesso guadagniamo 20 euro è finita secondo lei? come vuole che la veda la vedo tragica è chiaro? tragica non ci stanno i commercianti del centro di Roma quelle zone a traffico limitato sospese dallo scorso marzo sono tornate attive ma guardando le strade effettivamente di traffico non ce n'è affatto basta guardare alla sinistra e alla destra del mio negozio per capire quanto sia una mossa assolutamente impopolare e assolutamente incomprensibile incomprensibile persino i residenti sembrano appoggiare i commercianti un'alleanza insolita complici anche le tariffe per ottenere il tagliando di accesso con l'auto a casa mia 440 euro di seconda macchina per parcheggiare dove abito e non ci stanno manchi i parcheggi è stato molto caro in effetti molto caro e gente ce n'è pochissima quindi un danno anche per tutti io sarei per riaprirlo per un po' perché tanto così è tutto morto non c'è nessuno io penso che in un momento come questo forse sarebbe ancora giusto lasciare tutto aperto e cercare il massimo possibile di portare avanti insomma un po' di economia quel poco di economia che c'è senza tanti problemi altri residenti invece sono infuriati per aver pagato quel tagliando senza che sia servito finora chiedendo i rimborsi ma non tutti la pensano allo stesso modo abbinano anche in palazzi importanti in generale non sono persone che hanno problematiche economiche chiederete un rimborso farete qualcosa no perché capiamo le difficoltà capiamo i problemi i consigli di lettura di Saverio Simonelli che oggi ha incontrato lo scrittore Sandro buon vissuto il libro racconta la storia d'amore del ragazzino per la squadra del cuore ambientato a Roma alla fine degli anni 70 a cavallo degli anni 80 eppure essendo un libro che in qualche modo parla di calcio in realtà apre una finestra insomma sulla vicenda di questa comunità che poi è una famiglia però allargata molto allargata infatti ci sono anche personaggi collaterali che poi a un certo punto invece esprimono anche delle sentenze sulla vita sul mondo beh nessuno in una comunità nessuno sta lì per caso ovviamente i contributi sono dei più disparati da consanguinei e anche occasionali insomma c'è anche l'analisi molto in profondità delle reazioni di una comunità di fronte al fatto sportivo la cosa legata diciamo alla questione sentimentale è fondamentalmente questa se per i sentimenti si ha un pudore diciamo personale qui si parla di sentimenti consumati in una collettività dove nessuno si deve vergognare del proprio sentire o si deve nascondere in camera per scrivere una poesia o piangere si può consumare tutto in piazza perché tutti la pensano allo stesso modo a Autore dei sovrapposti